Un'epoca dal duplice volto, affascinante e contraddittoria. Da una parte, i castelli, l'amor cortese fra dame e cavalieri, i tornei, un mondo quasi fiabesco dove regnavano onore, lealtà e spiritualità. Dall'altra, la superstizione, la caccia alle streghe, le torture, le epidemie di peste che rievocano un mondo di oscurantismo e barbarie spesso ricordato come i secoli bui. Mille anni di storia, l'età di mezzo tra la fine del mondo antico e l'alba del Rinascimento.